Le ricerche per trovare Giorgio Lanciotti, il 35enne di Pineto scomparso durante un'escursione sul Gran Sasso, sono diventate una corsa contro il tempo. Lanciotti, grande appassionato di montagna e natura, è partito sabato mattina dal piazzale dei Pratitivo con l'intenzione di raggiungere la croce che sovrastra il Gran Sasso, passando per il rifugio Franchetti. Ma nel pomeriggio, quando i familiari, non riuscendo a contattarlo, hanno notato che non era tornato a casa, hanno immediatamente lanciato l'allarme. Le operazioni di ricerca sono subito iniziate coinvolgendo vigili del fuoco, soccorso alpino, guardia di finanze e carabinieri della stazione Pietracamela. La sua auto è stata rinvenuta nei pressi del campeggio di Pratitivo, lungo la strada che porta a cima alta. Da lì Lanciotti si era diretto verso la Madonnina e poi al rifugio Franchetti, prima di proseguire fino alla vetta orientale del Gran Sasso che supera i 2.900 metri. Proprio su questa cima aveva registrato un video pubblicato sui social in cui camminava su un sottile strato di neve avvolto dalla nebbia che copriva la vetta. Le ricerche attualmente si stanno concentrando nell'area intorno alla vetta, nei pressi del ghiacciato e del Calderone. Oltre alle squadre a terra supportate da un furgone attrezzato, comunità di comando locale sono impiegati i droni e elicotteri dei Vigili del Fuoco, partito da Pescara. Giorgio e la sua famiglia sono molto noti nella comunità locale. Suo padre, Gloriano Lanciotti, ha ricoperto per anni il ruolo di direttore provinciale della CNA ed è stato presidente della Camera di Commercio di Teramo e attualmente membro della giunta della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia.